Se i cittadini di San Benedetto del Tronto e Castelfidardo dovranno aspettare il ballottaggio del 19 giugno per conoscere il nome del nuovo sindaco, gli altri 27 comuni delle Marche, nei quali domenica si è votato per le comunali, hanno già il loro primo cittadino. Nella provincia di Pesero e Urbino sono 9 i comuni tornati alle urne. A Fossombrone il Movimento 5 Stelle ha trionfato con Gabriele Bonci che ha ottenuto quasi il 50% dei voti, travolgendo la lista civica guidata da Michele Chiarabilli, ex vice sindaco. Ribaltone anche a Mondolfo dove dopo 20 anni consecutivi di governo di centro-sinistra con più di 3.200 voti ha vinto la lista civica Affare Città guidata da Nicola Barbieri, 27 anni, laureato in Economia all'Università Politecnica delle Marche e già capogruppo di minoranza nel Consiglio Comunale uscente. A Orciano di Pesero invece è stato confermato sindaco Stefano Bacchiocchi con il 64% dei voti contro il 36% di Marco Gasparini. A Sassu Filtro è stato eletto Bruno Ciucci con oltre il 60% dei consensi, mentre a Mercatino Conca è sindaco Omar Lavanna con quasi 69% delle preferenze. A Mondavio Mirko Zenobi con la lista civica per un futuro comune era l'unico candidato ed è stato eletto sindaco grazie all'affluenza che si è attestata al 54,18%. Stesso discorso a Barchi dove è stato raggiunto il quorum con oltre il 51% dei voti che ha permesso all'unico candidato Claudio Patregnani della lista civica La Spiga di ricoprire la carica di sindaco. A Gradara Filippo Gasperi ha vinto con quasi 67% dei consensi, mentre a Fermignano è stato eletto Emanuele Feduzzi con il 33,28% dopo un test a testa avvenuto nella notte con l'assessore uscente Nicoletta Bonci che si è fermata al 29,52%. Alla chiusura delle urne alle ore 23 l'affluenza dei votanti nelle Marche si è attestata a 62,64%, un calo rispetto alla precedente tornata delle amministrative quando era andato a votare più del 69% degli aventi diritto al voto.